Sì, oltre a valorizzare il prodotto della terra e dare un segno praticamente contengibile alla piccola pesca che in questo momento sta attraversando un momento di grave crisi e quindi la costituzione della società del GAC fra enti pubblici e privati con gli operatori del settore primario e secondario della pesca è proprio questa. La finalità è questa, valorizzare il pescato, quindi valorizzare il prodotto, valorizzare il territorio, valorizzarlo anche a livello enogastronomico proprio per di riflesso avere un vantaggio anche per il pescatore. Sì, i comuni sono cinque, si parte da Cicastello che è il comune capofila, Acireale, Riposto, Mascali e Fiume Freddo. Sì, questo è un progetto che insieme a quell'altro sulle sacre storiche che è finito a settembre aveva come scopo quello di mettere veramente in evidenza i principali protagonisti della fascia costiera per quanto riguarda il turismo e la ristorazione, quindi ristoranti e pescatori. Il turista attraverso questo progetto avrà la possibilità di andare a pescare con coloro i quali forniscono il pesce ai ristoranti. È un concetto un po' nuovo, innovativo che abbiamo voluto inserire in Riviera per consentire ai ristoranti di allargare il proprio raggio d'azione, quindi offrire un menu basato sul pesce locale e consentire a coloro che lo vogliono poi di scendere a mare con i pescatori che hanno pescato quel pesce. Penso che sia un modo molto emozionante e nuovo di approcciare il ristorante. Siamo riusciti a entrare in questo progetto che ci ha fatto valorizzare un po' la nostra ristorazione in tutto e su tutto. Siamo stati sponsorizzati dal mare dei ciclopi, i nostri pescatori anche loro hanno avuto la loro parte, con loro pescato hanno fluido rispetto a prima con più continuità e devo dire che onestamente abbiamo avuto un incremento sia clientelare che anche qualitativo. effettivamente bisogna dire che l'opportunità che ci ha dato il GAC, Gruppo Azione Costiera delle Lave, siamo stati pure all'Espo a Milano a rappresentare i nostri prodotti ittici, anche quelli riguardanti l'interland dell'Etna, in modo particolare quelli della rivera dei ciclopi, come il pesce azzurro, le alici, il gambaretto di nassa, i polipetti presi negli scogli, un po' riguardanti tutto il pesce in generale.